F*** 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 Ma cos'è? Cosa sono ste cose? Non lo so, è quelli che ho trovato prima io? Ma che cazzo è sta roba? Ma vaffanculo, ma che roba è? Un creeper? Ha! Stupido creeper! Ma cosa c'è qui sotto? No, niente Ma ancora questi inscrizzi? Ah, vengono fuori da quei cosi lì Da che cosa? Dai... Ma vedi che è a doppio piano, ma cos'è? Non capisco, Rinnegan Anch'io veramente Mi aspetti un attimo? Dove devo andare? Nel senso, c'è un punto sicuro che arrivo Un punto sicuro, è pieno di istrici qua Ma gli istrici sai da dove vengono fuori? No Quando rompi i blocchi Ah si? Sì, prima ho rotto un bloc e dovevo fuori Sì, ma scusa Da lì ho capito che gli istrici nascono dalle rocce Ah si? Non lo so proprio Anche nella realtà Vabbè, qua non c'è niente, niente, niente Qua ci sono muschio, muschio ovunque Qua c'è una gratta, forse ci porta da qualche pa... La cesta che ho trovato prima Forse mi è andata in basso a Rinnegan Vabbè Forse, non ne ho la più pallida idea Andiamo da giù, andiamo in basso noi Vaffanculo Vabbè, non per non fidarmi, ma io ti aspetto qua sopra Qua non c'è niente Siete sicuri ragazzi che qui c'è il portale dell'end? Perché sinceramente io... Sì, ma sei commessi Ma merda, sei istrici di merda Ma merda, istrici di merda Ho rotto un... Ho trovato, ho trovato un buco Aspetta... Eh sì, ma sono andato sotto Sono andato lì di prima Sono andato lì di prima, aspetta, aspetta Madonna che sconfusione abbiamo fatto qui Stiamo girando in tondo, andiamo via da qui per piacere Andiamo da dove ho trovato la cesta E torniamo indietro Ok Dove ho trovato la cesta? Dall'altro lato di qua Ok Ok, andiamo da quella parte Perché sotto via dritto Dalla prima porta che ho trovato E sono andato dentro Vabbè, in questo... Qua cazzo c'è? Non c'è niente, terra Vabbè, andiamo via Ma è veramente ghiaia Ma un ghiaia per cazzo che è? Qua sotto è già controllato? Sono arrivato da qua sotto io Tipo una prigione Ma qua sopra qua, dove cavolo si va? Aspetta che blocco un attimo Madonna, qui c'è una cascata d'acqua che va giù Seguiamo l'acqua, rinneganco Aspetta che chiudo l'acqua un attimo Seguire sempre l'acqua, sempre Sì, Berggris, Docet Berggris Vedi che qua c'è una porta, perfetto Guarda, guarda, guarda cosa ho trovato qui Uh, c'è un'altra porta in ferro, via Aspetta un attimo Eh, fermati Ferma un attimo, guarda una roba No, siamo Siamo arrivati da lì Siamo arrivati da lì Sì, ho visto una moltitudine di torce Eh, ma cazzo, sono andato lì di prima Ma no, ma c'era una porta per andare qui Ma vaffanculo Ah, forse dall'altra parte dobbiamo seguire Ti ricordo che c'era un altro blocco d'acqua qua Che non porta a nulla Ah no, ehi, ehi Ehi Torno da me Arrivo Io comunque, torniamo da lì, ho trovato qualcosa Cosa, non lo so, ma... Probabilmente non è una merda, però Dove sei di cazzo? Eh... Ecco ti, ecco ti, ecco ti Allora, ti ricordi che c'era tipo quella scascata d'acqua Sì Ah, chiusa Sotto il pavimento c'è sta roba qua L'ho trovata oro io Ah, niente, ci siamo già ripassati da qui, forse Beh, appunto Giù di qua, però, ci siamo andati Oro Argento, farà Rinegano ci siamo andati giù di qua Aspettami Non serve a niente, non c'è niente, via Eh, prossima Eh, no, dove siamo andati prima Dove siamo arrivati qua Niente, buon fare, non lo prego, tanto adesso Non è quello l'obiettivo Diteci una roba, per favore Se c'è un modo di fare tipo Non so Una mappa Una mappa di questa cosa Di qua Dove sei? Vieni giù di qua tu Aspetta Ho trovato scale, dai, trovo Tipo, porteranno da qualche parte Puoi dimmi che muoversi a caso? Sì Non porta a niente No, impossibile perché A me c'è sempre portato a qualcosa E sotto sei già stato? Dove? Sotto di qua Sì, non c'è niente Cioè, alla fine entriamo altre porte, vedi Tantissime porte Ah, c'è uno scheletro Adesso, io seguo le porte, vaffanculo E' girata di schiena? No, cazzo Bastardo Cazzo Sto andato mezz'ora a prendere la spada Allora Seguiamo queste porte, Rimena Delle vaste in maniera ignorante Ma quanti cazzo di schiena Un Enderman! Che cazzo c'è là? Vuol dire che sei vicino forse? Sì? Forse sì Non muore questo Enderman Allora, ho ucciso l'Enderman E adesso? Continua ad andare di là? Non vedi che c'è una strada? Eh, però è lava Lava Home E adesso qua? Invece qua trovo tantissima acqua Che mi rompe solo le balle Mamma mia, ma cos'è sta cosa? Sto trovando una quantità di binari allucinata Eh, vuol dire che sei vicino a un cosa Un cosa cosa? Non lo so Arriva Qui non c'è niente, ho trovato Non ho trovato Ma siamo già passati allora Sono grate E con le torce Qui andiamo sotto Oh mio Dio Oddio 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 Guarda cosa ho trovato Guarda che cazzo devo mangiare assolutamente Ragazzi guardate che cazzo ho mangiato Guardate che cazzo ho trovato Ho trovato altre librerie Eh? Oh aspettami Vieni c'è le trasportati qua con paura Aspetta 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 Non muoverti che devo trovare una roba prima Guardi me Allora Guarda che cazzo ho trovato Merda Robi sta cazzo di porta Guarda che roba Libri Libri Incantesimi Incantesimi Libri Funghi C'è una scala che porta su anche Che figata Ma che cazzo è? Che cazzo di librerie è? Guarda 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 quanti libri Guarda quanti cazzo di libri Aspetta Bucca il soffitto Cesta Bucca il soffitto Perché devi bucare il soffitto? Vediamo se c'è qualcosa C'è niente L'ho distratto Che stupido Mamma mia ma cos'è? Andiamo a prendere sti libri oppure no? Vediamo se c'è qualcosa dietro i libri no? Giusto I libri libri andiamo a sì Scusa Devi lasciarli qua Però scava sotto la libreria allora Sotto la libreria? Sì Io un attimo vado su Merda Sono caduto giù Dove cazzo mi ha portato sto buco adesso? Ma guarda dove mi fai andare E beh ma c'è una grotta Qua sì Io sto esplorando anche io eh Acqua Merda zombie di merda Ma che ti ha visto? Scale che portano giù Guarda che bene Che mi conducono a una porta di legno Che mi conducono Cazzo è quella roba lui Rinnegan? Ehi L'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato Ma l'ordo di merda Ho trovato il portello dell'Eden A caso di cazzo di cane Oddio Oddio l'ho trovato ragazzi L'ho trovato Allora Non devo distruggerlo E ovviamente ho spiegato che sono gli occhi di merda Allora Fermi tutti Mettiamo un po' di torce Oddio istrice Uccidiamo l'istrice Vieni qua istrice Di merda Io non so se sono gli istrice cosa volessero rappresentare con quell'affare Cosa? L'istrice? Non so io che cosa è quella roba lì Mi ho detto istrice perché ti ho detto istrice Ma ancora? Ma basta? Ma dove cavolo siamo finiti? Sei trasportato da me tu? No Oddio una cesta Una cesta vicino al portello dell'Eden Che mi dà Una bardatura d'oro Allora abbiamo perla Omega E' veramente intelligente Salvati le coordinate Aspetta Sì Facciamo così anche Buttiamo giù la roba che non mi interessa Bardatura d'oro Bene Andiamo anche qua Lei mi pare che cazzo non è fatta E butto giù anche Che cosa? Questa Questa Che dovrebbero bastare queste cose Allora qua c'è esperienza Allora praticamente da questa parte Ah c'è un'altra cesta Con del pane Ottimo Vabbè no Che schifo ma quanto pane c'è in queste garotte Vabbè Allora ragazzi Come vedete Ho trovato finalmente il portale Io se adesso buco in alto Succede qualcosa? In che senso? Io adesso vorrei andare in alto da questa parte Così mi ricordo che c'è un buco che mi parte effettivamente al portale dell'Eden Posso farlo? Sì Guarda la bucchiamo Perchè non ci sia lava perché brucia tutto Vaffanculo No! Se mi buttano nella lava guarda mi incazzo come una bestia Vaffanculo istrici Ma quel cazzo che è? Ma il tuo stupido cavallo ogni volta che andiamo via approfitta per tirarsi via la... Il guinzaglio? Sì Vieni qua Stupido Ok 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 sono uscito di me Dove sei? Allora non lo so No vai più in alto Fai una colonna un po' più alta che prima te la guardi subito Allora Ci metti una torcia Ragazzi ho trovato i pod abitativi di Rilligan Ragazzi è vicinissimo vedete? Ah sì sì ti ho visto Là c'è la colonna Le colonne d'Ercole E là c'è la nostra casa Praticamente il portale dell'Eden ragazzi è dietro la montagna in cui abbiamo fatto la casa Questa è la montagna dove noi abbiamo scavato inizialmente Per fare il primo buco per andare a dormire Esatto Ah sei dietro di me? Esatto E lì senza saperlo praticamente dietro di noi c'era il portale Adesso abbiamo capito perché è sempre pieno di mostri a casa nostra Esatto soprattutto di Enderman Quindi ragazzi abbiamo trovato chiaramente il portale dell'Eden Sì ma prima fargli vedere una roba Cosa? Fargli vedere come accogliamo la gente quando dormiamo a casa Ah sì guardate qui c'è il viale d'accesso della fattorina giustamente Quindi non è solo che immaginare quello ci può essere scritto davanti al cartello Benvenuti brutti stronzi Benissimo Allora ragazzi vedete che c'è quella torre lì che ha fatto Rinnegan Per venire giù usiamo l'acqua Per andare su dobbiamo fare la monorotaia Fare l'oro ne abbiamo, ferro ne abbiamo, redstone ne abbiamo Faremo un paio di binari Quelli autoalimentati che ti spingono E poi costruiremo il binario nel prossimo video ragazzi Ciao a tutti mi raccomando un bel mi piace Per favore diteci cosa saranno le patate velenose Esatto Ciao a tutti e al prossimo video